Oggi in Piazza del Duomo per? Per un film di Tollywood, Sir Vacharu, con due grandi superstar indiane, Ravi Tej e Kajal Agarwal ed è la prima volta, anzi è la seconda volta nella storia del cinema indiano che un film viene qui in Piazza dei Miracoli a Pisa l'ultima volta è stata 12 anni fa addirittura ed è uno delle più grandi hit dello stesso cinema Telugu e infatti tutti i signori qui che sono in piazza sono contentissimi di essere in piazza non solo per vedere la torre ma anche perché rivedono quel luogo in cui è stata girata quella famosa scena 12 anni fa del film chiamato Jeans e oggi siamo di nuovo qua con un altro film di Tollywood Il film di cosa parla? Il film parla di una storia d'amore ovviamente come tutti i film indiani e parla di una storia d'amore che è raccontata prima del matrimonio e dopo il matrimonio quindi il film vuole mettere in evidenza quella che è la differenza come dire anche di come viene pensata dalla gente comune della vita matrimoniale ma anche della vita da fidanzati e quindi il film vuole mettere in contrapposizione questi due momenti della vita di una coppia Occhi di Ulisse, location manager per la produzione del film, che cosa fa Occhi di Ulisse? Occhi di Ulisse è un'azienda lucchese che lavora in due ambiti lavora nell'ambito della consulenza turistica per il mercato indiano in particolare ma anche per i mercati emergenti in generale del mondo e lavora come produzione esecutiva per le produzioni cinematografiche indiane quindi sia quelle provenienti da Tollywood come questa in questo caso, da Hyderabad del sud dell'India ma anche da Mumbai, quindi Bollywood o altri cinema regionali indiani quindi si cerca di creare un ponte tra l'India e l'Italia sia lavorando nel turismo sia lavorando nel cinema